Il tempo incerto della scorsa domenica lasciava presagire il rinvio della celebrazione, ma è stato un attimo perché da lì a poco il cielo ha permesso che la tradizionale processione a mare in onore della Madonna di Portosalvo, patrona di Catanzaro Lido e particolarmente dei pescatori, si svolgesse. L'efficio della Madonna a bordo della nave Regina, seguita dalle sempre numerose imbarcazioni, ha raccolto le migliaia di fedeli lungo tutta la spiaggia in un coro di saluti, emozioni e preghiere. Un tempo incerto ma non ci spaventa? No, quando c'è la festa della Madonna poi ritorna sempre il sereno, quindi ogni anno è una tradizione, anche quest'anno non si è smentita. E poi tantissima gente che partecipa a queste manifestazioni, quest'anno non abbiamo avuto il problema di avere la chiusura di questo piazzale e quindi la gente ha partecipato molto di più, è sempre una bella tradizione. E nel corso della traversa, Il lancio delle corone, il ricordo dei caduti durante le guerre combattuti nel mare e per i due pescatori del quartiere Marinaro di Catanzaro, partiti in un giorno come tanti per una difficile e dura attiva di pesca e mai ritornati dai propri cari. Grazie Grazie a tutti.